Amici di Milan.soccer, buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento a Terrazza Milan, l'appuntamento quotidiano con i rossoneri. Qui potete trovare la manina per iscrivervi al canale, stiamo diventando sempre più numerosi e la cosa ci fa molto piacere. Partiamo subito con la notizia del giorno. Innanzitutto 250 milioni sfumati, e sì, l'estate cinese è ormai alle porte, per cui l'ultimo che se ne va è Frank Chessy, firmato 7 milioni al Barcellona. Ma Frank Chessy l'ha fatta grossa, l'ha fatta grossa, l'ha fatta grossa, perché non se ne va nel migliore dei modi. Beh, sarebbe potuto accadere, tutto può succedere nella vita, figuriamoci se un giocatore piuttosto che un altro non è uno scandalo il fatto che cambino squadra. Donna Rum a parte, perché è nato, cresciuto, vissuto, pasciuto all'interno del Milan e poi un calcio alla porta. Frank Chessy, Cialanoglu e altri non fanno parte né del presente né del passato, figuriamoci del futuro, ma Frank Chessy questa volta l'ha fatta veramente grossa, perché è stato condannato a due mesi di reclusione, condannato a due mesi di reclusione, leggo testualmente, perché è stato fermato con la sua automobile e essendo sprovvisto del documento di circolazione ha pensato bene di esibire quello di un suo amico ivoriano e dunque c'è stato uno scambio di persona. Era stato accusato di sostituzione, quindi poi ieri c'è stata la sentenza, due mesi ricordo di reclusione, in particolare da un centrocampista ivoriano che aveva mostrato, il pilota ad un amico, insomma per farvela breve ha usato un documento di un'altra persona. È chiaro che si parla di reclusione, sono due mesi, ma è stato evidentemente, non è previsto il carcere, ci mancherebbe altro per questo. Stavo leggendo le attenuanti, attenuante della giovane età è il riconoscimento dello stato di incensurato. Il patteggiamento raggiunto tra il PM Giovanni Polizzi e l'avvocato di Milano e il Tribunale di Milano all'epoca dei fatti risultava essere 23enne ma insomma è una storia spiacevole, è solamente un elemento simbolico per dire che l'ultimo del passiamo ai fatti formali come che dicevano Fassone e Mirabelli Fassone diceva passiamo ai fatti a formalizzare i fatti non me lo ricordo nemmeno più quello è un anno incubo per cui l'ho cancellato vuoi per la proprietà dei cinesi presi da non si sa dove vuoi per la campagna acquisti Bonucci Cialanoglu eccetera eccetera che si ma adesso è tempo di pensare al futuro intanto il mister se la goda e se la canta nel Dubai avete visto il video in cui lui con Brahim Diaz cantano e Tomori cantano Pioli's on fire è bello è bello vedere questo attaccamento questo coinvolgimento per cui devo essere sincero mi sembra che come dire suoni una musica una musica molto 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 piacevole passiamo al calciomercato il Milan è sempre più vicino al giocatore al giocatore Origi e vuole chiudere questo parametro zero per cui ora che i parametri zero li abbiamo portati noi in Italia il Milan giustamente diceva un giornalista ieri ha iniziato questa nuova tendenza ora ci si sta accodando anche la Juventus di far fuori tutto il mondo di quei procuratori che non fanno il bene del giocatore non fanno il bene delle società giustamente fanno anche un po' il bene delle loro tasche ma lo fanno in maniera diciamo così eccessiva oggi stesso c'è un nuovo incontro per Divock Origi che può diventare dunque un un giocatore del Milan attaccante del Liverpool e comunque in scadenza di contratto andrà via comunque a giugno e andrà via parametro zero i rossoneri sono come già detto molto interessati e c'è già questa trattativa in corso che potrebbe ripeto potrebbe concludersi a brevissimo per cui il Milan non aspetta non aspetta tantissimo i suoi i suoi le decisioni come posso dire di altre squadre che tentano il rilancio il Milan è molto deciso ha cinque nomi sul taccuino se uno con uno si perde tempo c'è il gioco tira e molla tira e molla lo abbandona importante è molto importante non so se avete visto la copertina se non l'avete fatto andatela a vedere il Milan ha una secondo diciamo così fonti molto vicine ai rossoneri una nuova quarta maglia una quarta maglia che è quella che vedete in copertina che è una crasi diciamo così tra la prima e la seconda e la seconda maglia è una maglia che lascio a voi la tua sentenza di decidere se vi piace o meno i pantaloncini sono bianchi nella foto non si vedono i calzettoni sono sempre bianchi non c'è più una casacca da casa e una casacca da trasferta esistono delle azioni di merchandising che per il Milan sono molto importanti il Milan è l'ultima squadra rimasta in Italia delle big a non toccare poi troppo l'ultima è stata l'ultima a mettere lo sponsor dietro ed è l'ultima a toccare un minimo quella che è la propria divisa lo deve fare perché altrimenti il merchandising è bloccato quelle ridicole casacche della seconda squadra di Milano quella con i quadrettini quella con il serpentone quella di Mondrian gialla verde blu arancione volente o nolente hanno fatto guadagnare diversi soldi tra l'altro c'è una classifica delle squadre più ricche e il Milan infatti tutti ci eravamo chiesti com'è possibile che il Milan fosse al trentesimo posto e poi sopra Atalanta Lazio poi anche in questo caso hanno sbagliato Imperius per il Milan infatti è stata rivista questa classifica come fatturato siamo al diciannovesimo posto e con una fase diciamo così di tendenza verso l'alto c'è da considerare il nuovo stagio se no considerare appunto queste azioni di merchandising che sono molto importanti ecco chiudo dicendo infatti che dobbiamo lasciar fare un po' non critichiamo subito i colori non ci piace non ci piace siamo decine centinaia di milioni nel mondo di milanisti a qualcuno piace quindi se non ti piace compri quella classica se ti piace quella un po' più estroversa ti compri quella più estroversa ma il Milan sta veramente decisamente aumentando il proprio fatturato tant'è vero che la società di consulenza una delle più importanti al mondo che ha preso questo granchio che la Deloitte si è scusata dicendo che avevano sbagliato valutazione ma guarda caso proprio verso il Milan faremo un servizio dedicato a quelli che salgono che iniziano a salire sul carro noi che siamo sul carro li prenderemo a calci nel culo perché dovranno scendere subito o ci salivi prima oppure non c'è più spazio per il futuro Sabaci da Terrazzamina ciao